Il 30 settembre esce il nuovo disco di Fedez, non vedo l'ora che venga, così me lo scarico! No, ho l'intenzione di com... Com... Non mi viene. Comunicazione molto importante. Calogero ha finito di fumare. E ho costretto mamma e Casper di dover fumare fuori, in balcone. Questo per il loro bene... Sei un bastardo gigante, sai! Guardate cosa c'è qua dentro. Sono tutti i soldi che ho messo da parte. Adesso li diamo a mettere qua sopra. Alla posta quando ho messo i soldi è stato un casino, perché tu mettevi i soldi e poi te li ributtava. E di quei 100 franchi ne contava solo 30 e 70 li buttava di nuovo giù. Quindi tu devi rimettere, buttarli dentro. Alla fine mi sono scocciato. Siamo arrivati a... abbiamo superato i 1000 franchi. Ok! Siamo pronti! Può prendere questi soldi, questi qua e metterli qua dentro. Alle 6 e mezza di mattina questo rompecoglioni. Non è possibile. Non è possibile. 17 settembre, oggi è un giorno molto importante, del tipo buttiamo la smart. Ecco qui la smart. La smart che ci ha dato tanto lavoro e che adesso buttiamo senza nessun impianto. La smart che ci ha dato. Ebbè, dite le ultime parole voglio. Che dovuti, addio, smart, smart best. Ha preso un'altra botta su telecamere, un'altra, delle tante. Come, vieni, vieni. Ragazzi alla prossima, non sono molto motivato oggi, ma chi se ne frega. Al prossimo video e ciao ciao. 9 settembre 2014, è martedì e io sono a casa perché sono malato.